Buon pomeriggio, ben trovati al consueto appuntamento pomeriggiano con le notizie dal web della città, edizione culturale, vediamo subito che quando ci riserva questo martedì sera, cominciamo quest'oggi dal teatro, si tratta di uno spettacolo di Jacques Offenbach portato in scena dalla compagnia Alfa Folì, la bel Elen, la trama, Elen è turbata dal fatto che ad un pastore sia stato promesso l'amore della donna più bella del mondo, ovvero naturalmente lei stessa al teatro Carignano alle ore 21. Passiamo ai libri, una guida insolita ai misteri di Torino, ai segreti, alle leggende, alle curiosità di Torino, un manuale enciclopedico che solisterà il lettore e le sue curiosità dalla A alla Z, lo presenta l'autore quest'oggi, l'autore Renzo Rossotti, al Feltrinelli Libri e Musica di Piazza Celele alle ore 18. Finiamo con il cinema Portofranco, il cinema invisibile al Cileteatro Baretti, questa sera viene proiettato la guerra dei fiori rossi, di regia di Zhang Yuan, come le precedenti anche la terza edizione della rassegna condivide i medesimi principi ispiratori, struttura e linee artistiche. Il cartellone è composto da 30 opere di fiction caratterizzate da argomenti sociali, politici e di impegno, traspurate dai circuiti ufficiali delle grandi distribuzioni, pertanto appunto invisibili. Quest'oggi appunto dicevamo alle ore 21 al Cileteatro Baretti. Ringrazio Paolo Mosso per la messa in Londra, l'appuntamento come sempre domani intorno alle 17 circa e io vi auguro una buona serata.